Con 44 nuovi casi sale a 2487 in Abruzzo il numero delle persone affette da covid-19. Sette i decessi più recenti che portano il bilancio delle vittime a quota 253. I nuovi casi, accertati con i test eseguiti dal laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'istituto zoo profilattico di Teramo e dall'università di Chieti, sono emersi dall'analisi di 1231 tamponi. È risultato positivo dunque il 3,5% dei campioni. Ieri i positivi erano stati 97 su un totale di 1113 tamponi, 8,7%. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche i 253 pazienti deceduti, più 7 rispetto a ieri. 263 sono i guariti, più 8 rispetto a ieri, di cui 177 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al covid-19 sono diventati asintomatici e 86 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Del totale dei pazienti, 321 più 2 sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 41, meno 2, in terapia intensiva, mentre gli altri 1.609 più 29 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 233 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Monalacuila, 566 alla ASL Lanciano-Vastocchietti, 1.071 alla ASL di Pescara e 617 alla ASL di Teramo. I 44 casi di oggi si riferiscono a 12 alla ASL Lanciano-Vastocchietti, 29 alla ASL di Pescara e 3 alla ASL di Teramo. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 27.016 test.